roseto da 23 mesi a questa parte da inizi gennaio e kovid free purtroppo i dati della prefettura i dati dell'asla alla prefettura e quindi la comunicazione ufficiale sul bollettino regionale è arrivata solo una settimana fa ma siamo kovid free già da almeno due tre mesi il segreto non non lo so dire non siamo né più bravi nemmeno bravi degli altri e che la circostanza è il paese che più sicuramente più una più aree aperte la gente che può magari anche volendo uscire esce in periferia non sicuramente al centro quindi meno assembramenti e sicuramente anche la disciplina dei cittadini stessi che sono molto più attenti perché hanno avuto paura del periodo brutto che roseto ha attraversato a novembre nel mese di novembre un periodo drammatico per la nostra comunità fortunatamente lo abbiamo superato e speriamo che non ritorni più se non mettiamo un po in moto qualcosa per la tarda primavera inizio estate veramente la gente la gente cittadini normali anche gli esercizi commerciali e pubblici le attività stanno soffrendo tantissimo